Successo di partecipazione per un galà equestre di beneficenza a favore dell'Arca Onlus e di un centro di ipoterapia a San Giovanni Gemini, Gaetano Ravanà. Si è svolto con una numerosa partecipazione di pubblico il galà equestre di beneficenza a favore della costruzione di un centro di ipoterapia e del completamento della casa di Stefi, un centro di urno per le attività dei ragazzi eccezionalmente abili dell'Arca Onlus, organizzato dall'associazione Power Horse e gli Amici del Cavallo, in collaborazione con gli stessi giovani dell'Arca, protagonisti di un coinvolgente balletto organizzato dalla cantante Emily Carta, con il gruppo storico intercittadino e inclusivo Abbatellis, Brangiforti, Conti di Cammarata, Duchi di San Giovanni Gemini, di cui i ragazzi dell'Arca sono la punta di diamante, con altre realtà territoriali e con il patroginio dei comuni di San Giovanni Gemini, di Cammarata e della Proloco di San Giovanni Gemini. Straordinari gli artisti equestri che si sono esibiti e che hanno ingantato tutti con la loro passione e la loro professionalità. Ottima l'organizzazione nella quale si sono impegnati, soprattutto i giovani delle due associazioni equestri, Il vicepresidente dell'associazione Power Horse, Francesco Nogera, anche a nome del presidente dell'associazione Gli Amici del Cavallo, Ghetano Nogera Nataluzzo, ha messo in evidenza il valore del cavallo. Per la sua sensibilità e il suo carattere, il cavallo può aiutare le persone con difficoltà psicologica e fisica. Siamo felici della splendida riuscita del Galà, la gioia e ringraziamo il pubblico per la sua calorosa presenza. La presidente degli Abbatellis Brangiforti, Irene Catarella, ha evidenziato come non potessero mancare, perché il fare storia si deve mettere sempre al servizio del fare il bene. Il cavallo, ha continuato la Catarella, è un nobile animale. Noi Abbatellis Brangiforti rappresentiamo le nobili casate degli antenati di nostri territori. Per questo è iniziata una nuova grande collaborazione con l'associazione Power Horse e gli amici del cavallo, che continuerà nel tempo. La serata è stata presentata da Emily Carta e Pasquale Nocera, l'arciprete di San Giovanni Gemini, Don Gianluca Arcuri, ha benedetto la manifestazione e insieme al sindaco di San Giovanni Gemini, Dino Zimbardo e al sindaco di Camarata Giuseppe Mangiapane ha lodato l'evento benefico. Fare del bene, fare storia e noi vogliamo aiutare l'associazione Arca, anche perché tra le nostre figlie del corteo storico Abbatellis Brangiforti, i conti di Camarata e tutti di San Giovanni Gemini ci sono i ragazzi dell'Arca che si irano con noi, quindi non potevamo non esserci, per cercare di completare Casa Stefania, ma anche per aiutare i nostri amici della Power Horse e dei amici del cavallo a realizzare questo sogno, di poter creare una struttura di ipoterapia, perché veramente il cavallo può fare bene a tante persone che hanno difficoltà fisiche e psicologiche. La nostra associazione nasce fondamentalmente per aiutare i ragazzi autistici, infatti l'associazione si chiama Power Horse perché significa la potenza del cavallo. Il cavallo nasce per la sua totale libertà, però noi insieme all'aiuto dei nostri amici autistici possiamo cercare di restaurare un rapporto, un'energia con tanta gioia e felicità, perché fondamentalmente il cavallo serve per questo, il cavallo nobile, e sa e capisce a chi ha sopra e capisce come vuole essere portata la persona che ha. Sono molto onorata di aver condiviso questa esperienza con i ragazzi dell'Arca, sono dei ragazzi fantastici che ti danno veramente tanto da imparare e auguro a tutti veramente che possano fare questa esperienza perché fa tanto crescere e fa tanto maturare. Sono Ciccio Vittavoro, vengo da Corleone, io e il mio cavallo cattopardo. Questa sera ho ospiti di amici veri che mi ospitano da diversi anni, credo anche dieci anni, e dalla prima edizione sono qui stasera grazie a loro, anche se sono riduce da un infortunio che ho avuto pochissimi giorni fa. Meno male che eri infortunato per quello che ti avevamo fatto tutto fa, volavi con il cammarate. Perché l'ho fatto con il cuore perché il pubblico di cammarate, gli organizzatori di questo evento se lo meritano veramente. La mia testa è già vantigente, non talizziamo. Non talizziamo perché non so... C'è chi sia stato. Grazie, molto bravo. Io sono Giuseppe Cannella, vengo da Casteltermini. Grazie mille di aver ricevuto l'invito e per aver partecipato a questo spettacolo. Grazie veramente di tutto e soprattutto per l'organizzazione. Grazie. 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 Grazie.